Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova serie Fottete voi che delle tolissime troppe serie Perché in realtà La Mad Pack 3 dovevo farla Aspettavo l'inizio di questa beta Che è uscita ufficialmente oggi Quando sto citando questo video E wow ragazzi miei Morduk e io eravamo così Tipo, sapete, persone che Non volevano in qualche modo giocare un gioco Così, stanno lì per anni e anni Aspettando che esca bene E' uscita la Mad Pack 3 So che stiamo già facendo la Mad Pack 2 Però quella è ben diversa da questa qui Per dei semplici motivi che vi andrò a far vedere adesso Perché faremo un single player Create New World Andremo a chiamarlo Boh, Mordukulo perché ci piace come nome E fa figo E andremo a fare la Scrub Core Poi c'è anche la Salt Core E c'è la Creative Facciamo che la Scrub Core E' quella più semplice Perché poi l'altra invece E' semplicemente Art Core E non ci piace Quindi Sub Core E niente Ne lasciamo tutto quanto Non ci interessa più niente Facciamo un nuovo world Ovviamente ci vorrà un po' di tempo Spero di non laggare adesso Perché ovviamente sta caricando il world Deve crearlo E fare un paio di cosette E dovrei avere già impostato Già le impostazioni grafiche Spero Ovviamente averlo fatto In caso contrario Ehi Lagheremo un pochetto inizio game Che non fa nulla ragazzi Non preoccupate Ok Building Terre Lo sto facendo Dai Dai Ce la puoi fare Ce la puoi fare Vai Ok Eccoci qua Ragazzi miei Scopriremo Che cosa ci propone Questa map Perché non saremo data E' tanto bello E' tanta Tanta Roba Ragazzi miei Ok Vediamo un po' Siamo qui In mezzo a nulla Ovviamente sta ancora caricando La mappa Tutto il resto Sapete che ci vuole un po' E Oddio Welcome to the mad pack Ok ragazzi miei Si questo è un portale Che voi conoscete Bene Siete delle buone persone Se non lo conoscete Scopriamo dove porta Ragazzi miei Così ve lo faccio magari vedere Dai Sentite il rumore Ah Rumore Bello e figo Perché Ragazzi miei Noi siamo nel mondo Bello e figo Della Eder Si fatti c'è la Eder 2 Ok Questa è una achievement Presumo Eccoci qua ragazzi miei Tanta roba Uh Un teleporter Possiamo tornare Perché c'è un bambino Ok E c'è un quest book Ragazzi miei Che però Ci sono un paio di quest Unnamed Oddio Oddio Aia Aia Allora ragazzi Abbiamo già il primo nemico Che ci vuole ammazzare Dovete sapere che la Eder Ha particolari Ehm Perché questa achievement Con questa canzone Mi fa tanto figo Tipo vabbè Comunque Dovete sapere che la Eder È pericolosa Come non mai Ragazzi Il primo fatto è che cadiamo Ogni due per tre Perché Perché Oh ragazzi In mezzo al cielo Cioè È normale che cadiamo Una cosa interessante È che però Possiamo craftarci Un paio di armi E iniziare Questa È una strabench Guardate qua Che figata È strabella Facciamoci due di quest Facciamoci una spalla Ci uccidiamo questo tizio Scemo Scemo 70 E oddio Cos'è l'ability double drop Figata Mi piace questa cosa E la nuvoletta Adesso la killiamo Oh c'è anche C'è anche la core ragazzi Questa qua è figa E mi ha droppato dal doppio Mi ha droppato Aia porca caca Aia No 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 Aia maledizione eh Devo fare attenzione A non farmi beccare Da quella cosa Perché fa un male tremendo Ed è parecchio pericolosa Ora credo di aver visto Anche una pecore C'è una pecorella E lei muore ragazzi miei Muore di brutto Un coin mi ha recuperato Non so di che tipo sia Però È un coin E qui c'è un orange tree Che presumo Sai fare le orange Non lo so Ma in fatto ragazzi Oddio Quanto ti odio Vieni qua Quanto ti odio Vieni qua L'ho ucciso L'ho ucciso GG ragazzi Ok Questo è il lab Eccoci qua Stavamo dicendo ragazzi Bisogna farsi velocemente Delle armi E fare attenzione A quel tizio Che è appena morto In realtà Quindi non è che Gli abbiamo fatto attenzione Tantissimo E ci avverà anche un piccone Quindi Ehi fammi velocemente Giusto le attrezzi Per il momento Ottimo Guardate che figata Il piccone Tutto quanto Double drop Mi piace un sacco Perché almeno Possiamo duplicare la roba Presumo che questo Quindi doppio Mi dà Tipo Si ragazzi Me ne dà due Figata E gli alberi cadono velocemente Ah Quanto è bello Proprio il desiderio Di tutti i mancraftiani Far cadere gli alberi velocemente Perché c'è la mod Anche che fa sta cosa E ragazzi Comunque Se non l'avete capito Questo è Questa è la serie Delle Delle 8 Che prenderà il posto Dell'Aulisse Craft ragazzi miei Siamo sempre Uno sette dieci Lo so che E' un po' fastidiosa Questa cosa Che siamo sempre In questa serie C'è questo Modpack Mod Quello che è insomma Però tranquilli Che presto ne facciamo Facciamo abitudine Ora non riesco ad aprire La mappa Fa con M Facciamo waypoint Qua c'è la hub Quindi scriviamo hub Ok E dobbiamo iniziare A dare avanti Prima di tutto Bisogna recuperare Un sacco di roba Credo di aver fatto Una quest Ci ha scritto qualcosa In questa quest Dice Animated quest New For this quest Ah Slime type creature That will drop sugar Eh dove Dì a me lo troverò Non lo so Il getting hot Devo trovare Il nether diamond door Quanto è brutto Il nether diamond door Però è una figata Secondo me Into the dark Ovviamente bisogna Killare Elfire charger LOL Ed overworld Devo tornarci Nell'overworld Cos'è? Il penetrator Uranus E LOL La maglietta Di La maglietta Di 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 Bams Ok E E roba strana E questo Questo è il bello Ragazzi Perché E' piena di roba strana Sta cosa Quante mele ci sono E' bellissima Sta cosa ragazzi Lo faremo Lo faremo sicuramente Perché c'è un sacco di roba da fare E le quest Complicemente quest Stupide Non pensate che ci siano Quest Da fare Insomma Ci sono l'orange Che sarà il nostro cibo Per il momento Credo che non Non ci sono problemi In termini di mangiare Sempre la stessa cosa Questo è acqua Vero? No no Non è hub Non è Non è acqua E cosa Di come si chiama Ragazzi Ehm Non mi ricordo Adesso come si chiama Però avete capito Comunque quella cosa Che diciamo in factory Questa è la cobblestone Comunque guardate qua E' molto strana Lo so E questa invece E' dirt Quindi insomma Tutto il resto E' più o meno normale Ora Presumo che Oddio Guardate due drop alla volta Mi piace un sacco C'è anche la project E tutto il resto E presumo che Dobbiamo iniziare A sopravvivere Abbastanza adeguatamente Ora L'unico problema è che Non so dove si trovano i minerali Quindi dovrò in qualche modo Fare il bravo ragazzo E andare un po' in giro Ad esplorare Quindi Explore Explore all this Ok Ovviamente ci saranno anche Dungeon qui dentro E la cosa particolare Che la mad pack E' sempre stata un mod pack difficile Qualcuno seguesse Che la mad pack 2 Sa benissimo Che è piena di cose strane E difficili da battere Beh Anche questa è così Ragazzi miei Quindi più o meno Avremo tante cose da fare Comunque le fps sono perfetti Oh Oh Il gold enok ragazzi Questo dovrebbe avere Tipo il gold dentro Se non sbaglio No Perché non me lo da Non mi ricordo Come si prendevano queste cose Lo vedete ragazzi Uh Che figata Guarda qui Che figata Uh c'è anche la licanite smob E noi dovrebbero ragazzi Che non so Come si fa a prendere questa roba Credo Bisogna romperlo Con un'ascia più forte Forse Non lo so Però facciamoci un attimo Un'ascia più forte Per esempio con la cobblestone Ok E Ambrosia Che significa troppo ambrosia Che mi sembra l'ambrosia Non lo so Però proviamo un attimo Vedete Oh oh Eccolo qua Ambrosia Ah è vero L'ambrosia ragazzi miei Se è vero Per il coal Fa le torce È vero È tipo coal Red creek glass Com'è red creek glass Oh Oh Figata Bellissima sta cosa Ragazzi miei Solamente che non mi troppo Comunque il gold Quindi un po' È un po' Tro sta cosa Non voglio sapere Cosa faccio alla spada Però ora mi faccio Tutte le spade potenziate Tipo andando avanti E vediamo un po' Cosa riusciamo a trovare Quando ambrosia Abbiamo solo uno Un pezzo Che merda Beh ci vorrà un pochetto Credo Devo rompere tipo Un pezzo di alberelli Per poter trovare qualcosa E sta cosa Dei avere bonus Mi piace un botto Oh ecco qua l'ambrosia Figata Ok andiamo un attimo qui E facciamo E anche una spada Vediamo un po' Che fa la spada Drop ambrosia Ok quindi la spada Drop ambrosia A prescindere Ok quindi presumo Che anche il piccone Dropperà ambrosia Come Insomma Potremmo capire benissimo Da sta cosa Ok E Sì drop ambrosia Questo buttiamo sta roba Che tanto non ci serve In realtà no 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 Beh la spada la terrei Teniamo tutto quanto La spada la terrei Perché il double drop Sinceramente è molto più figo Ok E dovrò mangiare un po' di roba Quindi Qualcosa dovrò andare a mangiare Pian piano Vediamo un po' Se c'è qualcos'altro Qua vicino Uh un brush Un berry brush Che io posso rompere Presumo Ok E posso tenere con me Così posso farmi un po' Di roba carina Bene 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 C'è un altro Credo di poter rompere Ah ok posso rompere Lo gente con l'ascia Ragazzi Va bene E Oh ecco lì Questa è l'altra ambrosia ragazzi E come il coal sostanza Cioè non cambia quasi nulla Anzi no È uguale ragazzi Quindi Una figata Ma il fatto di poter droppare Tranquilmente l'ambrosia Spaccando la cobblestone Oh è vero C'è anche la vein miner ragazzi Oh è vero Devo cambiare però il tasto Che è un po' pericoloso Sinceramente Anzi lo facciamo adesso Che sennò poi ce lo dimentichiamo Andiamo Andiamo giù 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 Dracone Evolution Figata ragazzi Figata Quanta roba c'è qui dentro Manco lo immaginate Map writer Movement Project E Streaming Tinker tools Fame miner Grave Facciamo questo Ah c'è già la grave Perché allora C'è anche il shift Non ne ho la mia idea Forse si rompe in automatico Si rompe Scusa mi faccio così No No Ok Uh 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 Zanite ore Andiamo posso rompere con questo No Fare in forza un piccolo normale E Ok presumo che così Non si dovrebbe fare più La vein miner Vero Ok credo di no Andiamo un attimo Proviamo un attimo A vedere se la vein miner È attiva ragazzi A questo punto Così No la vein miner È sempre attiva Beh gg Non capisco sta cosa Perché in realtà È un po' strana In realtà se io faccio grave Dovrebbe levarmela E Uh Una pianta Di che cosa Oh cristo Figlio di La sorella Ma che gare Mi ha trovato un po' di petali Aia Aia Veleno 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 Dio santo ragazzi Brutte cose accadono a Ulisse oggi Però mi hanno trovato qualcosa di interessante Vabbè Facciamo uscire un po' di cobblestone va Ma Stambrosia si usa Stambrosia Non c'è modo Posso farmi un incubator Devo scoprire cosa fa la idea ragazzi Perché io non l'ho mai saputa sta cosa E Un paio di queste cose Possiamo prenderli E mettere a cuocere presumo No C'è di troppo in automatico Perfetto Meglio ancora più di così Non si può Vedete c'è troppato anche l'ambrosio Da sti blocchi Perché abbiamo il piccone Figata E credo 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 Che con questa cosa Possiamo iniziare a farci Già i picconi Ora Volevo santo capire Cosa mi dà in cambio Per esempio spada Grow stronger Grow stronger Che significa scusami Che diventa sempre più potente Cioè tipo Aumenta Va bene Ok Facciamo finta che sia utile Facciamoci anche una spada Si so che sto facendo tante cose In questa puntata Ma io direi che potremmo anche fermarci Ragazzi Siamo tipo 10 minuti Presumo Questa è la prima puntata La Mad Pack 3 Fatemi sapere nei commenti Se vorreste vederla In ogni caso Io la continuerò E sono un po' indeciso Sì In realtà no Non sono indeciso Penso di farla uscire Ogni giorno alle 20 Così possiamo farci un sacco di cose Tra queste cose varie Anche perché poi c'è la Terma C'è tutto il resto Tranquilli La parte iniziale Soprattutto a Eder Perché dobbiamo un po' Viaggiare qui dentro Però tranquilli Che in futuro torneremo Nell'Overworld Almeno ci spero Perché sennò È un po' problematica Come cosa Ma per adesso Io vi saluto Ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo episodio Da Ulisse è tutto Ciao ciao Lasciate un bel like Mi raccomando